Forza, dimmi dov'è l'oro. Dove si trova l'oro? L'oro? Dov'è l'oro adesso? Stanno cercando l'oro. L'oro non c'è. Devi mostrarmi dove si trova. Non ce ne andremo senza l'oro. Ma non mi dire. Dove si trova l'oro? A lui l'oro. Avete trovato l'oro? Dov'è l'oro adesso? Adesso prendiamo l'oro. Dice di avere l'oro. Dove si trova quell'oro?